Il comandante della Polizia Municipale di Lucca, Stefano Carmignani, è formalmente indagato dalla Procura di Lucca con le accuse di peculato e falso. A ufficializzare l'inchiesta a suo carico è stato l'avviso di garanzia recapitato al comandante dagli uffici di via Gallitassi. In sostanza la Procura vorrebbe accertare se il comandante ha utilizzato per scopi privati un'autovettura di servizio. Le indagini erano partite a seguito di esposti inviati alla Procura dall'interno dello stesso comando della Municipale. Qualche settimana fa i carabinieri avevano acquisito una serie di documentazioni dal comando di Piazza Sandonato. Le indiscrezioni avevano subito portato ad individuare il comandante Carmignani come il principale soggetto dell'inchiesta, ma fino ad ora nessuno era stato iscritto nel registro degli indagati. Parallelamente a quella della Procura anche il comune di Lucca ha aperto un'inchiesta interna.